Concezio del principio, oggi la presentazione del tuo ultimo progetto editoriale, una raccolta di poesia in vernacolo dal titolo On De Preoccupa, Cipensie. Sì, On De Preoccupa, Cipensie racchiude diverse composizioni dialettali che riguardano un po' lo spaccato della nostra quotidianità, del vivere quotidiano locale. Sembrerà strano, oppure molti non riescono ad osservare in modo adeguato il mondo che ci circonda, ma se uno si estranea un po', io credo che la realtà superi l'immaginazione. Quindi, come avete sentito nelle poesie lette, c'è da riflettere e c'è da ridere anche per alcuni aspetti che noi abbiamo affidato all'abitudine e non ce ne rendiamo più conto. Una raccolta di poesie in dialetto che fanno sorridere e anche riflettere. Sì, questo ho voluto fare. Perché all'interno, a parte il fatto che il libro è dedicato interamente a mio figlio Daniele, affetto da disabilità grave, all'interno comunque tratto argomenti anche di diverso tipo, sia che riguarda la disabilità, la religione, il ceto sociale, il lavoro, ma sempre in un modo non pesante, ma che arrivi al lettore in modo leggero, ma che lasci un po' quel senso di riflessione che si deve fare leggendo queste composizioni dialettali. Dobbiamo anche accennare ai tanti riconoscimenti che ti hanno visto protagonista per la poesia dialettale. Proprio in ultimo, dove? Falconara Marittima, devo ricevere un premio speciale della giuria domenica 11 ottobre. E' l'ultimo, il precedente, a Brindisi, in provincia di Brindisi, per una poesia in dialetto che si intitola Senza parlà e che riguarda l'autismo. Questo per chiudere è un lavoro che sprona ancora di più ad andare avanti, a non arrendersi mai e chissà magari a far nascere per il prossimo futuro un altro progetto editoriale di poesia in vernacolo? La mia intenzione principale, allora, il libro non ha nessuna pretesa come gli altri libri che ho scritto. Ha solo la volontà di portare avanti il discorso del dialetto che spero non finisca mai perché la paura mia è questa, che prima o poi si finirà per non parlarne più. Quindi questo è il mio obiettivo. Il prossimo non so se si tratterà di un libro. Io sto lavorando, ho un sogno nel cassetto che è quello di fare una commedia dialettale. Non so se ci riuscirò, se sarò in grado di farlo. Però io una bozza ho cominciato già a metterla giù, quindi speriamo che aiutato da chi ne sa più di me possa portare avanti questo progetto e realizzarlo. Grazie. Grazie. Grazie.